Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra il Comune di Agropoli e la Malfitana Gas che fornisce la possibilità ai cittadini di allacciamento gratuito alla rete del gas metano e all'installazione dei relativi misuratori. A presenziare, oltre al sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, l'ingegner Alberto De Flamineis. Dobbiamo ringraziare la Regione Campania per aver ricevuto questo contributo e dobbiamo ringraziare la Malfitana Gas perché per ottenere il 100% dell'allaccio gratuito c'è un contributo anche dell'azienda che naturalmente ha interesse che evidentemente gli allacci aumentino. È chiaro che è una bella giornata per noi perché la città di Agropoli ha sofferto un po' per la verità. Sono 120 km di rete, 60 interna e 60 esterna, quindi tante parimentazioni stradali che hanno sofferto, tanti cittadini che hanno dovuto patire i disagi dei lavori ma oggi ne abbiamo il vantaggio che è quello di garantire un servizio importante, un servizio primario che determina un risparmio per i cittadini. Fino ad ora dicevamo nell'incontro che sugli 8 mila potenziali circa allacci solo mille circa si avevano firmato l'allaccio e ha cominciato l'acquisizione del metano. Questo perché c'era un costo iniziale abbastanza oneroso che certamente in poco tempo veniva a essere poi rimborsato per i consumi vantaggiosi che il metano determina con un costo più basso rispetto agli altri combustibili e quindi per questo motivo il vantaggio non veniva sfruttato dai cittadini. Questo costo iniziale li spaventava e per questo motivo era fermo. Quindi oggi la possibilità di tagliarlo almeno del 50% perché i costi di allaccio saranno gratuiti consentirà ai cittadini di affrontare quindi con una spesa più piccola la possibilità di avere finalmente questa comodità in casa. Quindi siamo contenti di aver potuto dare questa opportunità ai cittadini e coloro che hanno avuto fiducia dall'inizio e hanno voluto affrontare questa spesa iniziale anche loro avranno il rimborso di questa spesa in modo tale che tutti quanti avranno il loro contributo a disposizione. Abbiamo chiedito anche tra l'altro che l'allaccio non determina l'obbligatorietà di fare subito il contratto uno lo può fare anche tranquillamente con calma il contratto stesso. Quindi ci sono tutte le possibilità e i modi uno può scegliere il modo migliore che ritiene per intervenire. La richiesta di allaccio e tutte le domande che vorranno essere poste, i dubbi, le perplessità che pure possono esserci si possono chiarire in due modi o tramite il portale della Maltitana Gas dove ci sta tutte le risposte di cui potete avere bisogno e la possibilità di fare la domanda online oppure presso il Comune di Agropoli all'ufficio di tributo ci sarà una postazione dedicata ai cittadini per le notizie e per fare la richiesta di allaccio. Il martedì e il mercoledì è aperto la mattina mentre il giovedì il pomeriggio quindi sia di mattina che di pomeriggio c'è la possibilità di andare presso l'ufficio di tributo e lì c'è una postazione dedicata al metano e alla possibilità di fare gli allacci o di chiarire tutte le domande possibili. La domanda più evidente che può essere ci sono anche delle zone ancora non servite anche quelle verranno servite, è chiaro che ci deve essere un'utenza potenziale però anche quelle verranno servite e quindi tutti quanti saranno accontentati e anche questa domanda potrà essere chiarita negli uffici comunali in modo tale da dare un'informazione completa. Attualmente la rete è molto diffusa, ci sono oltre 50 km di rete interna a servizio del comune di Agropoli quindi abbiamo cercato di coprire quanto più possibile il territorio. È naturale che rimarrà fuori qualche piccola zona che da parte nostra in qualità di concessionari cercheremo di soddisfare comunque. È bene ed è importante che gli utenti facciano comunque richiesta perché rimane una segnalazione a noi che c'è una zona che ha ancora bisogno di essere metanizzata. Speriamo di riuscire a farlo al più presto.